La settimana dell'8 marzo abbiamo l'onore di ospitare proprio qui nella sala consigliare della provincia di Rovigo la conferenza stampa del progetto Viva Vittoria Rovigo. Siamo veramente felici di ospitare questo evento che ha visto per un anno al lavoro tantissime associazioni in tantissimi comuni della nostra provincia per questo importantissimo progetto il cui ricavato andrà al centro antiviolenza del Polesine. Felici e orgogliosi oggi di essere in questa casa straordinaria che è la casa di tutti i comuni del Polesine. Viva Vittoria Rovigo, entra in punta di piedi ma orgogliosa di questa bellissima esperienza soprattutto progetto che ha travolto tutto il Polesine e non solo. Orgogliosi delle 2.900 copertine cucite che andranno a rivestire Piazza Vittorio Emanuele per ben tre volte. Un grazie di cuore ai tanti volontari, alle associazioni, alle case di riposo, alle scuole alla casa circondariale di Rovigo per la grande opportunità che abbiamo generato e abbiamo scritto tutti insieme una straordinaria pagina di storia del nostro Polesine. In caso di maltempo purtroppo, che non dipende da noi, la manifestazione sarà spostata domenica 17. Stesso programma, stessi orari, stessi appuntamenti.